allora oggi presentiamo una ricetta express dato che ci è venuto a trovare il nostro amico ex chef Gabriele che ci presenta una ricetta per l'estate ice lemon express in quanto questa ricetta mi ha fatta conoscere la madre di un mio amico stavamo studiando e lui ha lei ha cominciato a portarci queste fettine di limone congelate mentre involte nello zucchero veramente veramente buona da mangiare con la buccia come le tagliamo spesse 2 3 mm massimo mezzo centimetro poi immergiamo e le impaniamo nello zucchero semolato si anche di canna anche di canna se vogliamo e poi le mettiamo in congelatore perfetto quanto tempo devono stare in congelatore almeno tre ore e poi si mangiano così così con la buccia le estremità le buttiamo vediamo la panatura Musica Ecco qua le nostre fette di limone ed ecco qua e sono ottime per ospiti dell'ultimo minuto tra mangiare e cucinare cucinare quindi si aspettano queste due ore ed ecco qua le nostre fettine di limone congelate perfetto grazie fateci sapere allora impiattiamo le fette di limone che ci ha lasciato Gabriele effettivamente molto buona molto fresco Musica 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 Grazie a tutti.